ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale oggi torno con la promessa che vi ho fatto nell'ultimo video tutorial di una settimana fa dove vi ho mostrato se ricordate oppure se non l'avete visto andate a vedere il tutorial precedente come incassonare con le ginkgo con questo modulo abbiamo realizzato insieme gli orecchini I love ginkgo incassonando uno shaton da 8 mm come vi ho anticipato nel video stavo già studiando come adattare l'incastanatura ad altri formati di rivoli che tutte quante abbiamo in casa e quindi oggi sono qua con una di quelle proposte tra l'altro io vabbè io sono partita dallo shaton da 8 mm perché ne ho diversi mi piacciono tantissimo e soprattutto perché per chi li ha sono pochi metodi di utilizzo nella tessitura di perline quindi mi sembrava questa un'idea carina da cui cominciare questa questa incassonatura ora non ho l'oggetto del tutorial perché non è più fra le mie mani comunque l'incastanatura era questo poi dopo vi avevo mostrato anche la variante aveva fatto appunto l'incastanatura aggiungendo una goccia nel tutorial poi avevo mostrato anche quanto era carina la possibilità appunto la variante con la nappina veramente molto bella cioè io lo trovo molto molto bello come particolare anche se anche da solo semplicemente perché ama le cose piccoline come vi avevo detto con una coppetta sul retro si può anche utilizzare a robo e comunque già per questo tantissimi utilizzi veramente poi chiaramente ho studiato la possibilità sia di proseguire da lì che sto ancora elaborando però quello che volevo fare io ci voleva una misura più grande quindi ho praticamente fatto questa prova praticamente in questo tipo di da 14 guardate che bello ho utilizzato lo stesso sistema chiaramente dietro dovuto fare dei cambiamenti cioè quindi mano a mano che utilizzerò queste incassonature vi dirò l'esatto numero diciamo di perline e di giri che ci sono da fare di netted qua il davanti praticamente è uguale ho solamente aumentato di due ginko insomma come si fa quando si aumenta magari anche nelle incassonature del peyote sappiamo che man mano si aumentano le misure dei rivoli bisogna aumentare o diminuire le perline a seconda appunto delle misure qua ho fatto chiaramente sono partita dalla più piccola che era l'8 mm andando su aumentato praticamente le ginko e appunto sul retro vi spiegherò poi mano mano quando questo progetto quando vi mostrerò questo progetto adesso non so ancora esattamente cosa farci perché avevo un'idea particolare che prevedeva le mie quattro ginko come avevo fatto con il modulino piccolino e allora cosa ho fatto ho realizzato loro che sono l'oggetto del tutorial così ve li metto davanti così perché per me sono veramente bellissimi quindi sicuramente sarà stato un abbaglio all'improvviso guardate quanto sono belli e quindi praticamente cosa ho fatto per utilizzare la stessa incassonatura l'ho adattata a delle rocaille più grandi quindi nel tutorial partiremo da capo vi farò vedere appunto l'incassonatura con relativo adattamento alla misura dei rivoli poi dopo vi mostrerò anche come procedere per realizzare l'orecchino nel tutorial nel particolare andremo realizzare il bellissimo anche questo guardate quanto è carino quanti quanti bei colori andremo realizzare appunto il gemellino di questo orecchino e quindi adesso io non mi rimane che lasciarvi all'elenco dei materiali al tutorial ciao ciao dell'entusiasmo dimenticato di dire il nome degli orecchini ero talmente entusiasta del progetto e dell'insieme che mi è sfuggito totalmente mi dovete scusare il nome nasce dall'unione di queste due perline che io adoro le pesley come sapete le adoro veramente da tantissimi mesi e le ginco è stato un muro a prima vista come sapete quindi questi orecchini si chiamano jeansley per realizzare gli orecchini jeansley avremo bisogno del seguente materiale avremo bisogno delle rocaille della miyuki io come di consueto utilizzo miyuki e nelle tre misure 11 0 8 0 e 15 0 avremo bisogno poi delle ginko 4 ginko delle pesley 8 pesley di quattro bicono swarovski da 3 mm avremo poi bisogno delle rivoli utilizzo questa meravigliosa rivoli da 14 mm della swarovski la nuova serie the light poi avremo bisogno della monachella del relativo anellino se ci serve dipende appunto da che tipo di perno o monachella utilizziamo e poi avremo bisogno delle forbici dell'ago e del filo io in questo caso sto utilizzando il miyuki non sono impazzita sto utilizzando il miyuki soltanto perché al momento mi trovo sprovvista di fireline quindi io vi consiglio comunque se l'avete di utilizzare il fireline ebbene ora possiamo cominciare con il tutorial come prima cosa dovremmo inserire sul lago una ginko presa dal lato sottile e 3 rocaille 11 0 porta il tutto alla fine del filo facendo attenzione che non che non sfugga eccoci qua e ora inserisco l'ago nel foro vuoto quello libero a fianco della ginko tirando il filo e formando questo archetto sopra la ginko ora inserisco 3 rocaille 8 0 e qui notiamo la prima differenza con l'altra incassonatura e inserisco poi una ginko 3 rocaille 11 0 ok avviciniamo al resto alla lavorazione che ormai non scappa più perché è fissato da dalla ginko e inserisco nuovamente lago nel foro libero della ginko avvicino per bene le perline e faccio questo inserimento per tutte e quattro le ginko praticamente terminando con le 3 rocaille 8 0 ci vediamo quando l'ho fatto ecco che ho inserito tutte e quattro le mie ginko con sopra le 3 rocaille e intervallate da 3 rocaille 8 0 ora non dovrò far altro che chiudere la cerchio semplicemente facendo un nodo tra i due capi un doppio nodo appunto ecco qua stringendo bene non vi preoccupate dopo si sistemerà tutto quanto ora come ho fatto anche nell'altro video io anche in questo caso mi sento più sicura a unire i fili cerco di farvelo rivedere perché questo è un trucchetto che come dicevo nell'altro video quando la lavorazione mi concede di passare comunque con un filo con un filo comunque doppiato per un pezzettino qua non abbiamo rocaille particolarmente piccole quindi possiamo farlo ecco faccio lentamente perché voglio portarlo il più vicino possibile al lavoro ok le forbici le ho spostate ecco qua ho recuperato le forbici cerco sempre di tenermi qua davanti il meno possibile quindi le avevo spostate ora taglio la parte del filo in eccesso appunto e procedo con la lavorazione allora per procedere mi dovrò portare avanti quindi salgo dalla ginkgo se riesco a prendere il foro sì ok ce l'abbiamo fatta ecco spero appunto che con questo filo non ho problemi con l'altro mi era riuscito bene spero che appunto non questo procedimento dell'unire i fili con il miyuki non lo so speriamo bene ok scendiamo e mi porto a riuscire praticamente dalla rocaille dopo la ginkgo dalla rocaille 8.0 tirando sempre bene il filo in modo che comunque anche tutti i nodi ci seguono ok arrivato a questo punto devo inserire trattandosi di rocaille 8.0 qua se se tirassi saltando la perlina si vedrebbe il filo quindi preferisco ho preferito appunto mettere una rocaille 15.0 in mezzo quindi salto la rocaille centrale cerco di salire ancora comunque perché devo arrivare nella stessa posizione dopo la ginkgo tiro il filo ecco qua e vedete come si posiziona la nostra rocaille 15.0 praticamente scendendo esco dalla rocaille 8.0 anche qua salto la rocaille centrale mettendo in mezzo praticamente una rocaille 15.0 così fino alla fine del giro ecco come mi ritroverò dopo aver inserito la 15.0 in mezzo a ogni gruppetto di 3 rocaille ora mi sono portata ad uscire dalla rocaille 8.0 che precede la ginkgo e inserisco sul lago 7 rocaille 11.0 per passare poi nella rocaille successiva alla ginkgo mi porta anche già avanti nella lavorazione scusate ecco perché odio uno di tanti motivi perché odio questo filo si incaglia ovunque e si annoda infatti volevo aspettare di fare questo video quando mi fosse arrivato il filo ma ho fatto diversi ordini dove il filo era esaurito quindi adesso devo aspettare appunto un altro pochino allora qua siamo uscite appunto dalla rocaille di mezzo esco anche dall'altra eccoci qua ed ho formato il primo archetto praticamente non dovrò fare altro che fare questo passaggio per tutto il giro formando questi archetti di 7 rocaille dietro ad ogni ginkgo ci vediamo alla fine del giro ecco che a fine giro avrò formato i miei 4 archetti mi sono portata ad uscire quindi dalla quarta rocaille del primo gruppetto e ora inserisco sull'ago 5 rocaille 11.0 per portarmi ad uscire dalla quarta rocaille del gruppetto successivo dovrò fare questo inserimento ovviamente per tutto quanto il giro per formare la retina che conterrà il nostro rivoli il nostro incastonatura quindi 4 e 5 per infilarmi sempre nella rocaille centrale del gruppetto che ho davanti eccola qua in questo momento non tiriamo più di tanto il filo perché lo dovremo tirare poi successivamente quando avremo messo il rivoli all'interno ora metto anche gli altri rocaille per gli altri due spazi ci vediamo alla fine ed ecco che alla fine del giro si sarà formata questa gabbietta ho lasciato appositamente le perline larghe fra di loro perché adesso arrivato a questo punto devo inserire il rivoli lo prendo lo adagio all'interno cercando di fare fuori tutte le perline ecco adesso posso cominciare a tirare ovviamente la nostra incastonatura non è ancora bella affrancata e per farlo dovrò fare un ulteriore giro mi sono infatti portata ad uscire dalla terza perlina del primo gruppetto di 5 metto sull'ago una rocaille 11.0 e mi infilo nella rocaille centrale del gruppetto successivo questa ok facendo attenzione comunque di tenere ben stretto il rivoli perché ovviamente come vi ho detto non è ancora perfettamente affrancato allora prosegue inserendo una rocaille 11.0 e mi inserisco nella rocaille centrale del gruppetto successivo sempre la terza quindi un'altra 11.0 e passo nella terza del gruppetto successivo ed ecco l'ultimo il porto di inserire dalla rocaille di partenza praticamente ecco vado anche avanti in quella successiva sempre facendo attenzione di prendere le perline inserite nell'ultimo giro perché adesso chiaramente viene da sé che per stringerla bene dovrò ripassare fra tutte le perline dell'ultimo giro e dopo il rivoli sarà perfettamente incassonato ah una cosa volevo puntualizzare visto che ho già provato nelle varie prove che ho fatto guardate tra l'altro che bella come incassonatura anche nel rivoli da 14 e dicevo un'altra delle prove che ho fatto ho provato a incassonare nello stesso modo anche un rivoli in vetro come sappiamo sono più spessi comunque quindi serve comunque portare una modifica all'incassonatura in questo caso basterà in questo ultimo giro inserire due rocaille anziché una se usiamo un rivoli in vetro ora io faccio un paio di giri a vuoto nell'ultimo giro come vi ho detto per stringere bene l'incassonatura ci vediamo dopo ed ecco che con un paio di giri di rinforzo la nostra incassonatura ora è perfettamente salda il rivoli è ben incastrato all'interno della nostra lavorazione guardate che bello appunto l'incassonatura del rivoli da 14 mm con le ginko ora per procedere nella decorazione e nella realizzazione dell'orecchino mi sono portata ad uscire camminando fra le perline dalla rocaille qua per risalire praticamente la rocaille che abbiamo qua dietro la prima dell'incassonatura della della rete praticamente e da qua mi porto direttamente ad entrare nel foro della ginko eccoci qua tiro il filo e passo anche le tre perline che mi trovo davanti così a questo punto è arrivato il momento di inserire le nostre pesli allora inseriremo una in questa maniera prenderemo sull'ago anche 4 rocaille 15.0 ecco questo l'inserimento porteremo giù il lavoro verso le altre perline così e a questo punto passeremo l'ago il foro libero della pesli tirando il filo ok ora per affrancare la lavorazione dovremo passare attraverso le perline successive ecco come si deve posizionare la nostra pesli risalgo anche attraverso un'altra rocaille 8.0 ecco qua che si posiziona ancora meglio e ora mettiamo l'altra l'altra pesli l'altra pesli dicevo la devo prendere in questa maniera la porto giù eccola qua che si deve posizionare praticamente speculare all'altra giro il lavoro un attimo per comodità perché praticamente mi devo inserire dopo vi faccio vedere avvicino io ho inserito la pesli avete visto come l'ho inserita adesso mi devo inserire per affrancarla all'altra alla quarta rocaille 15.0 ecco qua che come vedete si sono appunto avvicinate ora per definire meglio il lavoro inserisco sul lago le restanti rocaille tre rocaille 15.0 perché ovviamente la quarta è quella che ci è servita per l'incrocio passo nel foro alto della pesli anche se riesco nelle rocaille successive va bene ne ho preso uno ne ho preso due mi manca una va bene l'importante adesso che vi faccio vedere come deve risultare il lavoro guardate che bello se non si sono sistemate le sistemiamo noi eccola qua questa specie di vi che si è formata ora ovviamente come dicevo dobbiamo passare anche nella terza rocaille che abbiamo sopra la ginkgo e tiro sempre bene il filo ora questo passaggio questo proprio passaggio lo dobbiamo ripetere in tutti gli spazi so che non è un passaggio consueto quindi magari o lo facciamo un'altra volta insieme vabbè lo facciamo un'altra volta insieme dopo poi in ogni caso per qualsiasi dubbio basterà mandare indietro il video vedete che già secondo l'orecchino riuscirete perfettamente a realizzare questo procedimento questo passaggio comunque adesso lo facciamo un'altra volta insieme abbiamo messo la pace di come avete visto deve posizionarsi in questa maniera prendo le quattro rocaille e quattro passo nel foro basso della pesli tiro il filo e poi mi infilo nelle perline 8.0 dell'incassonatura praticamente in quella subito dopo in quella centrale e successivamente passerò anche in quella dopo voi magari riuscite al primo colpo io davanti al cellulare faccio un po fatica comunque adesso mi porto appunto ad uscire anche da quella eccoci qua inseriamo nuovamente la nostra pesli la porto alla fine del lavoro giusto per vedere se l'ho inserita in modo corretto ok tanto comunque adesso giro un attimo il lavoro come abbiamo fatto prima per fare l'operazione di inserimento di congiunzione praticamente di incrocio mi inserisco infatti nella quarta delle 15.0 e tiro il filo a questo punto metterò le tre rocaille 15.0 restanti per poi infilarmi nel foro alto della pesli e nelle rocaille che ho sopra la ginko ecco questo è l'effetto che vogliamo ottenere chiaramente adesso esco anche dalla terza rocaille che mi trovo sopra la ginko perché dobbiamo ripetere questo passaggio anche negli altri due spazi vuoti se avete problemi appunto nelle prime volte basterà mandare un attimino indietro il video perché i passaggi comunque sono identici fra loro è solamente questione dell'abitudine poi dopo ci prenderete benissimo la mano ci vediamo alla fine del giro ecco come ci troveremo alla fine di questo giro guardate che bello l'orecchino è praticamente quasi finito ora sto uscendo da una rocaille sopra alle ginko prosegue vado avanti perché devo praticamente uscire passo anche appunto la pesli devo uscire dalla prima rocaille 15.0 che mi ritrovo qua sul dorso della pesli e a questo punto dovremo inserire in ogni spazio un bicono da 3 mm e quindi passo nel lo calchio di fronte nella pesli e cammino fra le perline fin dove riesco perché devo portarmi ad uscire appunto tiro bene il filo come vedete si posiziona dopo chiaramente tirerò in avanti le virgolette che devono risultare in questa maniera e praticamente dovrò fare questo passaggio per tutto il giro quindi ora mi porto ad uscire di nuovo dalla rocaille 15 che abbiamo dopo la pesli qua sul dorso la prima infilo sull'ago un bicono da 3 e passo nella rocaille davanti semplicemente se riesco tutte quelle che riesco a prendere anche ecco qua anche in questo modo mi sistemo praticamente la mia V lo sistemerò bene tutti quanti alla fine comunque e praticamente lo faccio anche per gli altri due spazi ci vediamo dopo ed ecco che a giro ultimato l'orecchino è praticamente finito mi raccomando di sistemare le perline davanti al bicono in modo che siano davanti allo stesso ora dobbiamo fare soltanto le due punte quelle una delle quali ci permetterà di fare appunto l'anellina per mettere la monachella cioè io in questo caso metterò praticamente la 8.0 che mi farà da gancio per l'anellina e mettere poi la monachella allora inserisco sull'ago due rocaille 11.0, una rocaille 8.0 e due rocaille 11 e passo uscendo chiaramente dalla dalla rocaille che precede il bicono entro nella rocaille che segue il bicono se ci riusciamo al primo colpo magari sarebbe meglio eccoci qua eccola qua come si deve formare praticamente cammino fra le perline e arrivo dall'altra punta per fare la stessa cosa in modo che sia speculare e poi tra l'altro dopo vi farò vedere che mettendo l'anellina sia sopra che sotto sopra metteremo ovviamente l'anellina per la monachella sopra a nostro piacimento potremo aggiungere una napina una goccia quello che vogliamo lasciarlo anche semplicemente così ora comunque vado avanti vi faccio vedere come è il risultato finale ed ecco che ho realizzato anche l'altra punta quindi l'orecchino questo punto è finito se lo desiderate se vi piace di più come vedete altre volte per accentuare la rocaille di punta passate ulteriori volta saltando la rocaille in questo modo si forma una punta più definita come preferite sempre voi comunque a questo punto è arrivato il momento di chiudere il lavoro e per farlo farò un nodo all'interno della lavorazione diciamolo anche doppio ecco qua ora passo fra le perline per allontanarmi appunto dal nodo e per tirarlo all'interno delle perline stesse ed esco insomma più avanti così posso tagliare il filo ora taglio il filo e vi faccio vedere il montaggio della monachella se volete poi dopo l'orecchino è finito ecco ho tagliato il filo adesso voglio farvi vedere appunto anche l'assemblaggio dell'orecchino prendo adesso io nei materiali non vedo le pinze perché è una cosa che ho improvvisato così di farvi vedere appunto e quindi comunque le pinze per aprire il nostro anellino passo attraverso la rocaille chiudo l'anellino adesso li avrei voluti mettere più piccoli ma al momento non li avevo quindi mi ritrovo a mettere questo che poi cambierò con uno più piccolo poi apro la monachella in questo caso sto mettendo una monachella piuttosto semplice e inserisco appunto la monachella nell'anellino dopo di che passo a chiudere anche l'uncino della monachella vi stavo dicendo prima che essendoci per fare il lavoro speculare abbiamo ci troviamo una rocaille 8.0 anche qui sotto e ora adesso giusto per farvi vedere possiamo fare un abbellimento dell'orecchino a nostro piacere che possiamo eventualmente aggiungere anche in un secondo momento anzi se lo facciamo per noi abbiamo l'orecchino doppia occasione praticamente passo attraverso sempre la mia 8.0 con l'anellina e qua adesso ho preparato la prima napina che è venuta in mano che potesse un po' starci bene ecco magari qua ci vuole un'anellina più grande vediamo se ce la facciamo dovremmo forse farcela così ecco qua direi che l'abbiamo chiuso comunque è giusto per farvi vedere appunto come ecco che si è posizionata bene anche la napina come vedete e l'orecchino così è finito con la doppia possibilità con la scelta a voi di come utilizzarla appunto con la napina potete mettere anche potete cucire la goccia nella solita maniera tradizionale oppure anche in questo caso lo potete possiamo attaccare mettendo un chiodino nella goccia e attaccarlo con l'anellina come abbiamo fatto con la napina tutto ina 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 bene con questo adesso qua abbiamo un gemellino eccolo qua come vedete effettivamente io ho resistito non mettere la napina ma effettivamente lo vedo già molto più finito cioè poi ovvio rispecchia i gusti di chiunque noi di utilizzarlo o in una maniera o nell'altra e spero che l'orecchino jeans lei vi piaccia spero rivederne tanti di prodotti per qualsiasi domanda mi raccomando non esitate a farmi a contattarmi i miei i miei link utili li avete io con questa inquadratura meravigliosa vi saluto e vi ringrazio per aver visionato il video alla prossima ciao ciao